Venerdì 20 settembre è veramente una giornata in cui esplodono forse con la maggior forza questi anniversari di cui è ricco il 2013, sia a Torino che a Milano. Vediamo un po' che cosa succede in questa circostanza. Partiamo per esempio da Milano. Dunque c'è una cosa abbastanza singolare, al planetario di Milano si organizza questo concerto intitolato Musica delle sfere, che è una conferenza sull'astronomia alla quale seguiranno delle musiche ispirate a questo concetto. Ma vi raccontavo un po' di giorni fa, riferendomi al calendario, di questo brano molto lungo del secondo quartetto di Feldman eseguito dal quartetto di Torino a Torino, che dura 5-6 ore, anche a Milano. Non volevo privare la città di Milano nell'organizzare il cartellone di un concerto di questo genere. E allora ho scelto, d'accordo con il pianista Orazio Sciortino, un curioso componimento che si intitola Vexation, sarebbe dire vessazioni, del francese Satie per pianoforte. Guardate che Vexation è un lavoro che può durare 24 ore anche. Di solito no, non vi spaventate, insomma, durerà di meno, anzi parecchio di meno. Durerà alcune ore, questo sì, ma non vogliamo veramente vessare e crocifiggere gli ascoltatori, anche perché poi è un concetto sostanzialmente molto ripetitivo, in cui però con la sua solita ironia Satie sembra annunciare o preannunciare da lontano, diciamo così, queste tecniche ripetitive che hanno un sottofondo spiritualistico tipico del nostro tempo. Però il grande momento delle ricorrenze arriva alla sera al Teatro degli Arcimboldi, con Zubin Meta che dirige l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. E c'è quello che è l'anniversario forse più famoso del 2013, cioè i cento anni dall'esecuzione della Sagra della Primavera di Stravinsky. Questa è una cosa che sanno tutti, se ne parla continuamente di esecuzioni della Sagra della Primavera, quest'anno ce ne sono un numero impressionante, con orchestre, direttori di tutti i paesi e così via. Quello che è interessante, che caratterizza un po', credo, il nostro concetto, che peraltro poi verrà replicato il giorno dopo a Torino, è che la Sagra della Primavera è un brano piuttosto lungo, ma non fa serata, come si dice in gergo, e allora bisognava completarlo. E allora in questo caso ho concordato insieme al maestro Zubin Meta di metterci insieme un altro grandioso scandalo che avvenne sempre nel 2013, del quale però si ha minore notizia forse perché la Sagra della Primavera era a Parigi, allora faceva più effetto, eccetera, eccetera. A Vienna invece, il 31 di marzo del 2013, ci fu un concerto diretto da Schoenberg nella sala del Musikverein, quella che tutti conosciamo attraverso le riprese televisive del concerto di Capodanno. Schoenberg diresse musiche sue, dei suoi allievi Berg e Weber, ne successe putiferi, un finimondo veramente non inferiore a quello di Parigi, con il pubblico che si mise a litigare, si è preso raccefonico, insomma cose di questo genere. Ecco che allora sembrava bello mettere insieme i due grandi scandali, perché sono due gli scandali musicali del 1900 e offrirli in questa serata. grazie ancora una volta al maestro Zubinmetta per aver accettato questa proposta così impegnativa per lui e per l'orchestra. Nella stessa giornata invece a Torino abbiamo una vera e propria curiosità, tutta di marca francese, fra l'altro quest'anno Torino celebra tutta una serie di rapporti speciali, insomma sulla prospettiva dello scambio culturale con la Francia. Avremo Le Marie della Tour Eiffel, cioè Gli Sposi della Tour Eiffel, che è un'opera collettiva nel senso che è stata scritta dai musicisti che componevano il gruppo dei sei e quindi non so per citarne qualcuno soltanto, Neger, Mio, Madeleine Taillefer e così via. Il libretto di quest'opera è dovuto al solito Jean Cocteau, che era un po' il leader di tutto questo, è una cosa veramente spiritosa, brillante e divertente che vale proprio la pena di ascoltare. Ma sempre per tornare al clima delle celebrazioni e delle ricorrenze, ecco ve ne vorrei ricordare una in particolare, verrà un gruppo dalla Francia, un gruppo di musica barocca, che eseguiranno un lavoro di François Couperin, musicista francese del Settecento, che si intitola Le Parnasse o l'Apoteose de Corelli, cioè il Parnaso o l'Apoteosi di Corelli, perché di Corelli ricorrono quest'anno i 300 anni della morte. Come celebrarlo allora in maniera intelligente? Con questo Parnasse scritto da Couperin. È una tradizione tipicamente francese che si chiamava O'Apoteose oppure Tombeau, in cui si mettevano insieme dei componimenti di uno, due o tre autori per celebrare la memoria di un grande musicista scomparso. In questo caso simpaticamente Couperin immagina che da un lato il nostro Corelli e dall'altro il francese Lully, io dico francese ma poi tutti sappiamo che Lully era un compositore nato a Firenze, si chiamava Lully, ma fece una grandissima carriera a Parigi, diventò Jean-Baptiste Lully, è il fondatore di un certo stile francese. Ebbene, vi dicevo che François Couperin nel suo Parnasse o Apoteose immagina che i due, Corelli e Lully, si trovino sul Parnasse, si incontrino e si mettono a suonare insieme e quindi c'è questa sorta di meravigliosa pacificazione nel segno dell'Apoteosi. Grazie. 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 Grazie.